Cari amici, si scoprono le tombe e si levano i morti, poi vi spiegherò il perché ho scelto questo titolo. Intanto da il benvenuto al nuovo iscritto Francesco Musacco, il quale mi chiede anche se potrò intervistare Carlo Palermo. Beh, diciamo approfitto del video per dare una risposta alla prima in assoluto via video. E' un po' difficile andare a rintracciare queste persone, ci provo, diciamo che Carlo Palermo tratta un argomento che fa da sottofondo a Ustica, che è la massoneria. Ma su questo adesso non posso dilungarmi, allora ne parleremo comunque. Allora, si scoprono le tombe e si levano i morti, perché ho scelto questa frase, questo titolo? Perché sono apparsi improvvisamente, ovviamente in occasione, come era stato anche già previsto, del 27 di giugno, appaiono personaggi finora rimasti nascosti nell'ombra o spariti completamente. Questo video è ricco di esempi e sicuramente qualcuno di voi avrà già visto la reclama che viene fatta sulla Rai della trasmissione di Massimo Giletti. Facciamo anche qui un po' di pubblicità, vedremo cosa salterà fuori dalla trasmissione. La trasmissione di Massimo Giletti che andrà in onda, adesso vi faccio vedere per benino tutto, che andrà in onda, eccoci qua. Giletti Sustica, 25 giugno tra i tre alle ore 21.20, uno spot che sta andando in questi giorni, martedì sveleremo un documento segretissimo di cui siamo venuti a conoscenza. Stiamo a vedere che cosa ci racconta Massimo Giletti. E poi ci dice la politica dovrà rispondere, frase molto sibillina, tutto ci incuriosisce, ma c'è anche da capire Massimo Giletti come mai salta fuori di colpo. E oltretutto nel suo servizio è riportata tra gli autori o tra le fonti di consulenza, chissà se Massimo Giletti avrà le cose di Sustica, l'avrà letta sul giornale anche lui come tutti. Comunque si avvale della collaborazione di Fabrizio Colarieti e qui lo togliamo, adesso era un po' parcheggiato e lo vediamo qui lo spot di giornalista su un'altra testata online. Il giornalista riattino Fabrizio Colarieti tra gli autori dello speciale Ustica e una breccia nel muro su Rai 3 con Giletti, ma non è soltanto lui, la sorpresa ve la lascio in fondo. Allora, qua stiamo andando a capire il perché del titolo, si scoprono le tombe e si levano i morti. Vi ricordate a fine maggio veniva riesumato da Ranucci durante, su Rai 3 sempre, trasmissione report, veniva riesumato uno degli scenari apparsi agli inizi contenuto in un libro di Claudio Gatti, si intitolava Il quinto scenario. Viene riproposto quest'anno con una nuova edizione che infatti è stata ribattezzata Il quinto scenario, atto secondo, nel quale si parla stavolta di missile israeliano. Si ritorna a parlare di missile israeliano, niente po' di meno che da chi ha fatto poi la presentazione del libro, cioè il tal Giuliano Amato, vi risparmio la fotografia di Amato. E altrettutto diciamo che ovviamente la gente incuriosita, insomma questo uscire così ha un po' un anticipo rispetto alle canoniche date, infatti stiamo vedendo che stanno uscendo tutti adesso. Beh diciamo che questa è benissimo un'operazione promozionale gratuita per poter vendere le copie del proprio libro, diciamo però almeno che Claudio Gatti conclude le sue ipotesi dicendo che sono ipotesi, non sono probabili, rimangono ipotesi, almeno su questo è onesto. Quindi come vi avevo anticipato in passato, c'è questo martellamento che adesso è cominciato dopo la trasmissione di report di cui vi ho appena detto. Del resto il partnerariato vantato con la RAI dalla presidente a vita, direi, chiamerei imperatrice o regina perché a sto punto un presidente di solito viene eletto o rieletto ma qui si tratta di un presidente ad perpetuan. Quindi dicevo il partenariato vantato dalla presidente dell'associazione Parenti delle Vittime porta su RAI3 appunto alle 21.20 il ritorno col botto di Giletti che ci promette di svelare un documento segretissimo e sul quale, come è scritto, la politica dovrà rispondere. Io spero che Giletti mostri questa serie di documenti che sono quelli da mostrare. Allora qui vi faccio rivedere i documenti che sono stati trovati per caso, per sbaglio, per caso perché lo sbaglio è stato fatto da Roma, sono stati trovati questi documenti nel fascicolo, un fascicolo che riguardava la strage di Piazza della Loggia a Brescia, ok? Non è collegabile oppure non si sa ancora se è collegabile, ma direi di no. Comunque nel fascicolo di Piazza della Loggia, della strage di Piazza della Loggia, sono trovati una serie di documenti che non c'entravano niente. E li rivediamo, li ho fatti già vedere diverse volte, li rivediamo anche oggi. Allora, abbiamo minacce contro gli interessi italiani, vediamo di ingrandire un pochino, è perfetto. Questo è interessante, è un appunto datato del 24 aprile 1980, non riesco a abbassare di più, vediamo se andando indietro, no. Comunque è questo documento registrato come pagina 278, ma vi volevo evidenziare le persone che erano informate della vicenda. Quindi abbiamo il Presidente del Consiglio, il Ministro della Difesa, il Ministro della Grazia e Giustizia, il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio, forse era stesso amato, non ho riverificato e quindi potrebbe, però era sottosegretario amato alla Presidenza del Consiglio con consiglio. E poi c'è il segretario di generale del CESIS. Oltre a questo documento, ne abbiamo degli altri, andiamo a vedere un altro appunto, leggiamo in alto, questa è la pagina successiva, 24 aprile 1980, non si vede, ma fidatevi. C'è un appunto in cui si fa la parte, la trattativa, questa 24 aprile 1980, in cui si sta contrattando un po', vedete il nome di Abu Anzels Areque in basso, e qui si chiede un esito del processo, si chiede di celebrare il processo in giugno e luglio, anziché in settembre e ottobre come era previsto. Qui c'è la dirigenza del fronte popolare di liberazione palestina che è ben citata, e qui si chiede di ottenere la riduzione a circa 4 anni della pena inflitta tra i autonomi e l'assoluzione per le sue prove di Abu Anzels Areque, che poi alla fine sarà condannato a 7 anni, questo lo dico perché il 7 in questa vicenda appare a dismisura, anche addirittura nel modello del missile, secondo la definizione della NATO. Comunque, vediamo la trattativa, successivamente segue ancora sulla trattativa, vedete concessione dei benefici, rinvio a giudizio per partecipazione a barda armata, restituzione dei sistemi d'arma, mettiamolo più in grande. Ok? Quindi chiedono che una volta che è terminato l'iter giudiziario, le armi siano distrutte, oppure aggiunge che si riservano di, visto che non si potevano andare indietro, si riservano di chiedere di risarcimento, si riservano, non è detto che l'avrebbero fatto, ma si tengono questa prerogativa. Dopodiché, è importante anche l'elemento assicurato di aver ottenuto che se no il 15 maggio non verrà attuata alcuna azione contro gli interessi italiani. Questa è una frase molto importante, poi se volete leggere con calma, mettete, fate un fermo immagine, io vado avanti. E qui abbiamo ancora l'ingrandimento di quello che ho già detto prima, restituzione dei sistemi d'arma, in modo tale che se volete fare una fotografia da mandare agli amici o qualche chat e così via, qui avete anche questa possibilità. E poi abbiamo un'altra parte importante, molto importante, visto che Giovannone era preoccupatissimo, nessuna azione sarà comunque effettuata dal fronte nei confronti dell'ambasciata di Beirut, del capo missione e del personale tutto nonché della collettività e degli interessi italiani in Libano, né prima né dopo il 15 maggio. Quindi, chi era in Libano non aveva nulla da temere. E' interessante che ci sia, nella partecipazione come autore alla trasmissione di Giletti, Fabrizio Collarieti. E questa presenza ci fa intuire che probabilmente nella trasmissione si parlerà delle morti sospette, un argomento molto caro a Purgatori, sul quale con la rete è anche pubblicato un libro, un librettino, riferito però ai due casi sui quali Priore aveva manifestato perplessità, senza però ritenere di aprire delle indagini per omicidio per quei due casi. Comunque, per essere precisi in tutto, Priore ha escluso categoricamente che ci siano stati casi dubbi che facessero pensare a un omicidio per tutti quei casi di morte sospetta che invece Purgatori, del quale Collarieti è un discepolo, dicevo che Purgatori insisteva nel dire le morti sospette, questo o quest'altro. Tutto teorie complottistiche che è lo stesso Priore, smentisce. Di conseguenza, quello che ci dice, ci ha raccontato per anni Purgatori, erano sue ipotesi che però sono state recepite, assimilate da migliaia di italiani. Ma andiamo avanti. Allora, il 19 giugno, cioè io sto registrando il 19 giugno, cioè oggi, è stato rilasciato un comunicato stampa, che adesso vi faccio leggere, che è questo, rilasciato Gasparri e Giovanardi, Rai non diventi fiera delle sciocchezze, da Giletti ci aspettiamo verità, nuole versioni di fantascienza. Ora, prima di leggere, volevo aggiungere che tutta questa manovra, quando Fabrizio Collarieti per anni è stato nel silenzio. Lui ha creato il sito stragiottanta.it, che è una raccolta molto precisa di tutta la documentazione che si riferisce a Ustica, però non è neutrale, cioè lui parteggia, è per la tesi cara alla Bonfietti, alla Purgatori, altrimenti non sarebbe riapparso così, diciamo, alla ribalta in occasione. Non so se devo essere più esplicito o se avete già capito cosa ci sta dietro, comunque anche questo ne parleremo al termine di questo video. Quindi, comunicato, martedì prossimo andrà in onda sulla Rai, uno speciale condotto da Massimo Giletti e dal titolo Una breccia nel muro. Tutti i generali dell'aeronautica sono stati assolti con formula piena da ogni accusa. Nel processo penale è stato accertato tecnicamente che l'esplosione di una bomba a bordo ha abbattuto il 19 Tavia. Quella sera non c'era nessun aereo militare in volo in prossimità del 19. Lo sostengono una nota congiunta il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e l'ex ministro Carlo Giovanardi. A suo tempo abbiamo consultato ed annotato personalmente, come membri della commissione di indagini sulla morte di Aldo Moro, tutte le carte sull'argomento e l'ora classificata segreto segretissimo. Alcune, l'avete vista prima, da cui emerge chiaramente, proseguono i due esponenti del centro-destra, una responsabilità del terrorismo palestinese nell'accaduto. Siamo quindi curiosi di sapere quale sarebbe il misterioso scoop, sono molto curioso anch'io, anticipato alla stampa di Giletti. Io non vorrei che fosse un'altra ciofeca come quella mandata in onda nel 2020, da Pino fino a Chiaro, del quale ho parlato proprio nell'ultimo video, dove facevano sentire questa registrazione, cioè questo nastro, ripulito con i mezzi digitali altamente tecnologici della RAI, dal quale si capiva poco o niente. Guarda, poi c'era un bisbiglio, un fruscio, che subito hanno detto, ecco, guarda cos'è, un cavolo niente, questa è un'altra delle varie fake mandate in giro. Ma siccome abbiamo un partenariato molto importante tra la RAI e la signora Bonfietti, ecco che tutto si può raccontare, infatti RAI non diventi fiera delle sciocchezze. Andiamo avanti, se una delle circostanze già note o una delle 34 versioni di fantascienza che attribuiscono la colpa ai francesi o agli americani e olivici o agli italiani e da ultimo agli israeliani, nel contempo sosteniamo fortemente l'azione dell'Associazione per Revità Sustica, la Avdau, preseduta dalla signora presidente onoraria, dalla signora Giuliana Cavazza, che perse la madre sul 19. la presidente è Flavia Bartolucci, che era figlia del generale Lamberto Bartolucci, che era uno dei generali accusati di alto tradimento, tutti assolti con la formula piena, cioè il fatto non sussiste. E questo bisogna che Giletti lo ricordi, speriamo. Comunque, perse la madre sul 19 di opporsi alla richiesta del pubblico ministero. Quindi viene sostenuta l'azione di opporsi alla richiesta del pubblico ministero Erminio Amelio, che ha in carico l'indagine per strage di Ustica, da che il nostro ex presidente della Repubblica Cossiga si mise a dire che erano stati i francesi. Dicevo, allora, di opporsi alla richiesta del pubblico ministero Erminio Amelio di archiviare l'indagine senza esplorare a fondo la pista del terrorismo libico-palestinese, che era quella che, come avete visto dai documenti, era ben nota. Ora voi andate a vedervi che era nel 1980 il presidente del Consiglio, e avrete la sorpresa. Comunque, ci rivolgiamo poi ai vertici della RAI perché il servizio pubblico non può trasformarsi una volta di più in megafono di tesi infondate, ignorando e censurando persone e situazioni che vogliono, che possono dare e vogliono dare un contributo di verità sulla tragedia di Ustica. Vogliamo, ad esempio, sapere se il generale Tricarico sarà interpellato. La RAI non può diventare la fiera delle sciocchezze per dare soddisfazione a chi cerca una facile ribalta e io aggiunco a chi continua a voler insistere su una propria tesi di comodo. Bene, volevo anche ricordarvi che l'anno scorso, luglio 2023, per ricordare la scomparsa di Purgatori, la Sette mise in onda il muro di gomma. l'associazione Verità Disastro Aerotiustica diffidò la Sette non dal trasmettere ma si era richiesto, avevano richiesto, che venisse specificato all'inizio della trasmissione del film che tutto quello che era descritto era di pura fantasia, cioè che poi i generali erano stati assolti, praticamente si voleva ritornare, riprendere, fare presente che non c'era nessuna responsabilità come veniva insinuato nel film. Ma Telese, che tra l'altro a proposito di generale Tricarico, c'è un'intervista fatta proprio da Tricarico con Telese, dove Telese insiste in maniera cioè proprio ripetitiva a far dire al generale Tricarico che era stata una battaglia aerea, il generale Tricarico giustamente diceva no, è una bomba, l'intervista la trovate sempre su YouTube. Comunque la scaltrezza di Telese fu che diciamo all'inizio prima del mandare in onda al film che venne posticipato di un'ora rispetto all'orario previsto è riuscito abilmente a instillare nella nella sua tra le sue parole il concetto ancora della battaglia aerea. Proseguo eccoci e oltre alla RAI anche Sky24 TG News trasmetterà nei giorni 22, 23 e 27 addirittura di giugno e addirittura in prima serata una trasmissione con ospiti almeno credo due autori che vantano l'aver dato consulenza al film di Enzo Martinelli Ustica e si tratta di Ramon Cipressi e Marco De Monti quella che racconteranno vedremo poi come sarà la trasmissione perché adesso siamo un po' in anticipo non si possono fare previsioni ma racconteranno quella che secondo loro è la vera storia di Ustica con riferimenti probabili al film Ustica di Renzo Martinelli del quale appunto vi ho detto poco fa adesso andiamo a ripescare le nostre fotografie questo è un altro dei documenti e qui abbiamo anche le minacce di interesse italiani come ho visto prima eccoci qui abbiamo i paradossi di Ustica perché ho messo questo questo richiamo al libro di Pizzi perché questo è un libro che rispetto al successivo che adesso andiamo a vedere eccolo qua il libro di di Pizzi è di uno spessore non paragonabile al libro degli autori delle due persone degli autori che sono appunto Cipressi e De Montis che andranno appariranno in televisione loro signori ed è una cosa molto interessante questa cioè come fanno apparire in televisione come mai loro costoro scrivono questo libro che in realtà è praticamente la identica loro dicono di no ma in realtà è così basta andare a leggere pagina a pagina parola parola è identico al loro precedente libro che era la guerra di Ponza io non consiglio nel primo nel secondo se dovete fare un acquisto più avanti questo va questo non va questo vi faccio vedere anche il retro come vedete da questo libro è stato tratto il film Ustica di Martinelli e il documentario Rai 3 ancora Rai 3 attenzione Ustica è verità senza nomi quindi potremmo anche pensare che Rai 3 stia facendo un lavoro di informazione a senso unico verso la teoria della battaglia aerea del missile sul libro di Ustica la vera storia è diciamo che sta che loro definiscono romanzo verità scusate ogni tanto mi blocco ma devo raccogliere le idee allora guardate la copertina Ustica la vera storia il romanzo verità e l'inchiesta a priori introduzione di Donato Firrao Donato Firrao era stato assunto dalla commissione Miseti attenzione per fare delle perizie di perizie era un'autica non è ne ha fatte due cioè ne ha fatte due per modo di dire andiamo avanti ne ha fatte due quella riferita al caso Mattei ma molti anni dopo cioè sotto consulente del giudice Calia e poi era stato appunto consulente per anche per la commissione la commissione Miseti comunque dicevo che quando si scrive Ustica la vera storia il romanzo verità ed inchiesta a priori introduzione di Donato Firrao uno si aspetterebbe si aspetterebbe di leggere dei fatti realmente accaduti poi non si fa un romanzo su un fatto reale perché ci sono anche di mezzo 81 persone morte su questo libro se voi andate su Amazon troverete tantissimi commenti entusiasti ma ce ne sono altri che sono tecnici e criticano pesantemente il contenuto su questi sono andato a recuperarvi una recensione che mi era molto piaciuta che è stata trovata utile da 68 persone quindi 68 persone non hanno comprato il libro e questo è una recensione fatta da questo tale Hardwork che sarebbe l'F111 che risponde al nome di Alberto Zanfi che ha fatto una bellissima secondo me più che una recensione è stata una critica vera e propria da esperto da critico letterare comunque gli autori affermano fin dal titolo che la loro è la vera storia il romanzo verità non è affatto così si tratta di un romanzo di fantasia purtroppo viziato da una sequela di errori di errate conoscenze e di mistificazione dei dati davvero impressionante ciò che lo rende totalmente implausibile non solo come romanzo inventato ma soprattutto come analisi tecnica e storica del disastro di Ustica gli autori nonostante si presentino come ingegneri aeronautici con centinaia di impeccabili articoli sulle migliori riviste italiane specializzate nel settore scrivono a vanvera di tali questioni dimostrando una imbarazzante ignoranza delle procedure operative delle caratteristiche dei vilevoli militari e delle relative tecniche di impiego adesso non sto a leggervi tutte le varie ciofeche che sono che il signor Zanzi Zanfi ha trovato nel nel libro andrei piuttosto nella parte della conclusione lo chiaramente potete mettere in pausa se volete leggere con calma e qui c'è una lista neanche completa tra l'altro ecco volevo aggiungere che aspettate prima vi faccio arrivare qui c'è ancora il MIG23 libro che troveremo ancora attenzione perché è sorpreso che come dicevo prima arrivano alla fine ecco qui ce l'avevo annotato in rosso questo volevo dirvi la faccenda degli F-14 che erano stati inseriti nel precedente della guerra di Ponsa al che qualcuno ha detto agli autori ma guardate che l'F-14 nel 1980 non era ancora arrivato nel Mediterraneo arriverà dopo e allora loro molto furbescamente cambiano il modello lo fanno diventare l'F-15 questa è l'idea della verità della vera storia com'è è una storia di fantasia né più né meno e poi andremo avanti poi sarebbe anche interessante ma anzi vi facciamo così visto che approfitto della vostra pazienza c'è anche il supplemento in realtà non lo volevo non lo volevo trattare ma dopo aver fatto aver pubblicato il suo giudizio pesantemente negativo gli autori hanno risposto ribaltando la frittata no? al che il signor Zanfi ha detto aggiungo questa alla postilla visto che gli autori hanno etichettato quanto scritto come falsità e commenti sbagliati accuse che rimando senz'altro al mittente questo è scocciato che aggiunge gli fa i pulci veramente da tutto quindi voi leggetelo fate oppure semplicemente andate su Amazon prendete il titolo andate a fare a scegliere il le stelline no? scegliete la stellina con un commento cioè scusate la stellina la stellina singola che vuol dire la minima che si può dare che ha commentato scarso decisamente scarso diciamo e poi qui vanno anche da città vanno citati anche altri che hanno lasciato delle recensioni adesso vi dico chi sono quindi ah no 62 persone scusate non 68 allora torniamo alle nostre fotografie di questo romanzo verità allora tra gli altri che hanno dato dei giudizi obiettivi cioè non non sono c'è chi che definisce ecco Fulvio Fratti definisce il romanzo un Frankenstein di dati fa anche ridere questa qui del Frankenstein di dati e ve lo mettiamo qui a vederlo no? abbiamo scelto l'immagine tratta da film Frankenstein Junior per cui un po' di umorismo qua ci vuole poi c'è l'altro report di Benedetto L penso che sia Luigi non lo leggo manco se mi pagano poi c'è MB339 che dice che scrive un libro che non porta nessuna verità e infine Flavio Danielis che dice la narrazione va ben oltre la fantascienza avete visto che già di fantascienza avevano parlato prima e comunicato stampa allora per avere idee invece di come siano stati rincitrulliti gli italiani basta leggere qualcuna delle recensioni a 5 stelle tra le quali la più fresca di tale Marco Lazzari che scrive ricostruzione dell'accaduto finalmente credibile dettagliata e verificata questo fa è spassoso con buona pace dei bombaroli dei complottisti e di chi non sa pensare con la propria testa ma solo seguire le cordate politiche e qui si potrebbe dire che sembra quasi un'auto diciamo un'autobiografia questa se si su Ustica comunque è vero che c'è una cordata politica dalla quale la signora Bonfietti ha ottenuto ultimamente 450 mila euro dicesdi 450 mila euro la fondazione fondazione nelle quali sono presenti Regione Emilia Romagna Comune di Bologna e l'associazione preseduta appunto dalla presidente perpetua signora Daria Bonfietti 450 mila euro che vanno ricevuti andranno ricevuti in tre anni 150 mila adesso nel 2024 150 mila nel 2025 150 mila nel 2026 queste sono le tre rate e quindi vediamo l'apparire appunto si scoprono le tombe e si levano i morti ecco che appaiono questi personaggi tra i quali vi metto vi aggiungo anche un altro ah preta qui un piccolo una piccola piccolo regalo questo è un pezzo del lavandino ecco come è ridotto visto che ne avevamo parlato al convegno del 13 a Negrar questo è come era conciato il lavandino quindi nonostante che venga citato dagli autori del libro che appariranno poi in televisione chissà cosa racconteranno che sia stato un F5 perché i signori ritengono che l'aereo sia stato abbattuto non abbattuto sia entrato in collisione con uno F5 che inseguiva un MIG ma poi questo MIG nel libro viene intercettato da caccia da caccia F15 poiché l'F5 va a sbattere appunto contro il 19 il pilota dell'F5 si salva così c'è scritto e dopo c'è tutto il romanzo del recupero con l'elicottero la porta ah un'altra cosa questa mi fa sempre venire da ridere ma la dimentico da dire il fatto che la porta aeree Saratoga loro la mettono in navigazione ma anche qui sono dei discepoli anche loro di purgatori cioè loro non hanno minimamente tenuto conto nel loro romanzo storico di quello che sono state le conclusioni di Priore cioè di Priore per determinare se la nave la porta aeree Saratoga si fosse mossa dal porto ha fatto questa bellissima ha avuto quella bellissima trovata di convocare le coppie di sposi farsi portare le foto dei matrimoni e dato che è tradizione fare delle foto in un certo posto ben preciso di Napoli da dove è un posto panoramico da dove si vede tutta la rada sotto e tramite quelle foto hanno accertato che la nave Saratoga era rimasta ferma ancorata a stesso punto quindi non è potuto neanche uscire neanche rientrare poi qui andremo dentro con Sandlin questo tutto aggiungerei troppo a questo video che si sta già diciamo così allungando ecco qui torniamo al nostro 19 al quale appartenevano appunto quei pezzi che avete visto prima così li avete anche visti adesso vi volevo far vedere se ci arrivo eccoci qua l'altra sorpresa un'altra sorpresa sono le apparizioni delle personaggi che hanno fatto da contorno a tutta diciamo la parte di disinformazione e di depistaggio di complottismo ci troviamo adesso con questo articolo che riprende e qui lo vediamo riprende quella testimonianza di un di un ai tempi caporale che aveva raccontato un sacco di cose chiaramente che hanno fatto subito nascere crescere le illazioni e si chiama aspettate che non me lo ricordo più di Benedetto eccolo qua Filippo di Benedetto lo possiamo anche vedere qui in basso così abbiamo fatto conoscenza con un personaggio che stando a quello che dice lui è tutto cioè dice tutto l'opposto di quello che sono stati i risultati di inchieste e non di ricordi o per andare a finire sulle pagine di giornali quindi nasce esce anche questo quindi leggiamo l'articolo nel quale viene citato vedete nei giorni scorsi l'ha cercato e sentito anche Massimo Giletti che il prossimo 25 giugno va in onda in prima strata sull'elitra ma non solo l'ha anche intervistato un inviato di Skype per uno speciale in occasione dell'ultimo anniversario della strage cioè che quello che vi accennavo prima con gli autori di quel libro Romanzo Verità e quindi se voi mettete insieme il fatto che ci sia stato un fortissimo finanziamento da parte della regione Emilia Romagna se fossi un emiliano un romagnolo mi chiederei ma i soldi che pago il ribollo della macchina ma poi li buttano via così una fondazione per che cosa per continuare a raccontare nei prossimi tre anni comprando articoli contando pagine di giornale che la vicenda di Ustica non è quella che è la realtà avete visto prima dei documenti ma è quella che vogliono certi personaggi che hanno un altro interesse molto economico a far sì che si continui a mantenere oltretutto anche nelle prossime generazioni questi concetti di sfiducia nello Stato nelle istituzioni e di come si dice perpetuamento della menzogna perché se creiamo una fondazione che ha questi scopi perché altrimenti non c'è verso non vedo altri obiettivi non quello di continuare a percorsoare questa infame balla creata cresciuta coltivata per i propri interessi e a questo punto sono come si dice in Sicilia i piccioli quelli che ci interessano sono i piccioli non sono spiccioli soldi non sono l'amor la ricerca della verità di quello che è successo non troveranno mai l'autore materiale ma nei documenti che avete visto prima avete ben chiaro che cosa c'era dietro e chi sapeva cosa erano i fatti perché avete la lista dei ministri è chiara non ho preso i nomi mi sembra che in un altro precedente video l'avevo anche fatto però basta ministro della difesa 1980 presente il consiglio 1980 google un attimo viene fuori e allora vi fate vi fate un po' di indagini anche parte vostra no? a me piace ogni tanto stimolare un pochettino alla diciamo così alla non essere sempre passivi e qui quello che volevo evidenziarvi quello che probabilmente verrà sostenuto nella trasmissione di giletti perché se mi prende un di benedetto qui è definito uno dei testimoni decisivi a proposito guardate in alto qua 85 morti civili sbaglio sono 81 almeno questo non aumentiamoli comunque 81 questo è l'articolo scritto da come si chiama costui Paride Leporace il signor Paride regga almeno le morti non che ce ne aggiungiamo nell'altro ah tra parentesi volevo dire che sugli altri due aerei abbattuti con bombe da parte in questo caso della Libia avevamo dieci italiani sull'aereo UTR caduto nel deserto del Tenere tra i quali c'era anche la sorella della defunta Barbara Balzarani e due italiani su 747 caduto Lakerby questi sono vittime al pari delle persone morte a Ustica o e delle persone morte a Bologna stazione quindi volevo farvi notare che c'erano la testimonianza per avergli e per lui si riferisce a Di Benedetto per aver egli rivelato prima un giornale per i magistrati che il pilota libico dichiarato su questa vicenda ormai ce n'è troppo financo le parti civili hanno non hanno accettato hanno confermato non hanno nulla in contrario a che l'aereo era caduto il 18 luglio cos'è stato e ancora quindi nella trasmissione andremo a trovarci con questa nuova istigazione alla alla fake news o alla menzogna come preferite chiamarla questo è il racconto qui ci sono alcune discrepanze per esempio dalla sua postazione il caporale individua il pilota morto accasciato sui comandi il pilota è stato sbalzato fuori dall'aereo l'hanno trovato fuori poi un'altra cosa strana in un turno di riposo di un servizio lungo affrontato giorno e notte di benedetto si avvicina all'aereo e guarda da vicino quel pilota ammesso che ci fosse stata questa intervento questo piantonamento la guardia non l'avrebbe fatto avvicinare quindi anche questa è una stranezza poi parlano solito degli agenti stranieri e quindi noi andiamo avanti perché la conclusione quando di benedetto accenna anche i quattro incidenti negli ascensori e lo speronamento della sua macchina avvenuti prima che fosse interrogato e questo il cronista dice di questi episodi Filippo ne parlerà al magistrato che non ne farà accenno nelle sue storiche carte e sa che non gli ha dato neanche nessun credito e quindi abbiamo la conclusione su questa meschina riea esumazione di morti di zombie che vengono arruolati per continuare a diffondere col credito ovviamente dato che parlano in televisione le loro voci fanno testo e infatti qui abbiamo l'elenco i personaggi che saranno gli eredi delle frottole purgatoriane e quindi con questo video che è durato molto devo dire uno dei più lunghi che ho fatto vi do appuntamento a un prossimo video e ce ne saranno degli altri carissimi vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima Grazie a tutti